Nuovo video, nuovo aggiornamento, cari amici del canale YouTube, parliamo di successore di Stefano Pioli, parliamo della panchina del Milan, del futuro della panchina del Milan, chi sarà l'allenatore che prenderà il posto di Stefano Pioli ormai prossimo alla conclusione della sua esperienza sulla panchina milanista dopo quattro stagioni e mezzo, quindi si avvicina la conclusione dell'avventura di Pioli anche se ha ancora un anno di contratto ma sappiamo che la stagione purtroppo è andata male per il Milan che fuori da qualsiasi competizione, lontano da qualsiasi obiettivo, non resta che condurre in porto la barca quindi cercare di concludere al meglio questa annata senza l'umilazione del derby di lunedì sera e possibilmente concluderlo il campionato al secondo posto piuttosto che terzo, quarto e così via. Si parla di diversi nomi, ci sono diversi nomi nella lista della società che sta facendo le cose con molta riservatezza perché la scelta dell'allenatore è una scelta importantissima. In base all'allenatore si capisce molto delle ambizioni del club ma anche di quelli che sono poi i progetti futuri del Milan, è chiaro che se il Milan punta ad Antonio Conte o a Klopp o ad Ancelotti ti dà una certa sensazione anche in vista della prossima stagione, è anche chiaro che se il Milan punta ad allenatori che storicamente non hanno poi portato a grandi risultati vuol dire che si scende un po' di livello e bisogna essere onesti e chiari in questa descrizione. Al momento uno dei nomi più gettonati ma anche più valutati all'interno del club rosso-nero è quello di Lopeteghi che è svincolato, non ha alcun legame contrattuale con altre società, allenatore spagnolo che ha lavorato molto bene con la nazionale spagnola, ha vinto anche l'Europa League nel 2020 contro l'Inter vi ricordate la famosa finale tra l'altro nel pieno del Covid, battendo l'Inter di Antonio Conte in finale ma sappiamo che il Siviglia con l'Europa League ha un feeling speciale ne ha vinte tante il Siviglia di Europa League. Poi per il resto in tutte le altre panchini ha fatto molta fatica, è un allenatore che ha avuto anche tanti insuccessi, tanti fallimenti su Milan News abbiamo fatto un focus su Lopeteghi, bravo con i giovani ma schiacciato anche dalle pressioni. Al Real Madrid è durato poco ed è stato cacciato via comunque c'è stata l'interruzione del rapporto con Real Madrid, al Wolverhampton, la fine della sua esperienza con la squadra inglese non è stata facile con la nazionale maggiore della Spagna anche lì risultati molto molto altalenanti per non dire deludenti e anche con il Porto in campionato male in Europa un pochino meglio ma anche col Porto insomma non ha lasciato proprio il segno. Quindi diciamo che tranne la vittoria in Europa League con il Siviglia e qualche buon risultato con le categorie dei giovani della nazionale spagnola quindi per esempio Under 21, Under 19 per il resto esperienze abbastanza deludenti per Lopeteghi. Il timore dei tifosi del Milan è che si vada su un profilo del genere su un allenatore che poi può essere un grosso rimpianto poi quando comincia la stagione bisogna scegliere bene il tecnico e soprattutto bisogna probabilmente alzare un po' il tiro, puntare a qualcosa di migliore. C'è il suo agente, il suo procuratore Jorge Mendes che sta spingendo fortemente per Lopeteghi. Jorge Mendes ha avuto anche dei contatti con la società rossonera, con il Milan. Mendes che lo aveva portato sia al Real Madrid ma anche al Wolverhampton sapete che comunque lui agisce tanto nella società inglese alla Wolverhampton e Mendes sta provando a piazzare Lopeteghi anche al Milan. Vediamo se alla fine andrà in porto questa operazione questa operazione di mercato che riguarda però non i giocatori ma un allenatore oppure il Milan invece andrà a scegliere un altro tecnico. Poi ci sono tanti nomi che vengono fatti ora come ho detto nel video di questa mattina anche perché siamo ancora all'inizio, il casting è appena iniziato molti intermediari e molti procuratori stanno proponendo i loro assistiti proprio come è successo con Lopeteghi e Jorge Mendes. Ci sono altri agenti che hanno saputo che il Milan ormai vuole cambiare tecnico, sostituirà Stefano Pioli e quindi vogliono proporre, sponsorizzare il loro assistito. Si è sentito parlare di Fonseca, si è sentito parlare di per esempio anche di Van Bommel lo hanno accostato al Milan, Marco Rose della Lipsia, ci sono nomi come Gaggiardo, altri allenatori che vengono accostati al Milan ma io credo che il casting non sia stato ancora concluso, anzi siamo in piena campagna di ricerca dell'allenatore sperando che la scelta sia giusta. Per quanto riguarda invece il derby domani c'è la vigilia, domani conferenza stampa di Stefano Pioli sarà una conferenza secondo me importante perché arriva tra l'eliminazione dell'Europa League dall'Europa League a Roma e il match con l'Inter quindi nel mezzo di una partita che può diventare storica per l'Inter, cioè vincere lo scudetto in casa del Milan e una che è fallita miseramente, cioè la trasferta all'Olimpico contro la Roma. Domani faremo tante domande a Stefano Pioli sperando che le risposte siano migliori rispetto a quelle del passato che si approfondiscano temi, probabilmente vedremo anche se si bilancerà sul futuro e soprattutto è un Milan che sta preparando il derby, oggi altro allenamento al centro sportivo rosso-nero vi ricordo anche che il Milan non avrà per la partita contro l'Inter Malik Chao che è stato squalificato avrà gli unici due difensori centrali che sono Gabbia e Tomori si sta provando a recuperare Kier ma è difficile, non ci sarà neanche Calulu il Milan si presenta al derby con un'emergenza difensiva e sappiamo che la difesa è uno dei punti deboli del Milan un talone d'Achille, il Milan a causa della difesa quest'anno ha perso tanto tante partite, tante competizioni, il problema del Milan quest'anno è proprio la fase difensiva non citiamo solamente i due centrali ma proprio tutto il lavoro che viene fatto in fase difensiva anche i centrocampisti non hanno aiutato il Milan quest'anno e infatti in estate si correrà ai ripari, bisognerà prendere un elemento, un profilo giusto davanti alla difesa per aiutare anche i difensori detto quindi dell'assenza di Chao e di Kier e Calulu i due difensori centrali saranno Gabbia e Tomori poi Teo Hernandez e Calabria con Mike Mignan a centrocampo dovrebbe rientrare Reinders dopo l'esclusione a sorpresa contro la Roma in attacco ci sono un po' di dubbi Leao e Pulisic dovrebbero giocare però attenzione perché potrebbero giocare anche dall'inizio Ciucueze il solito dilemma, Ciucueze o Loftucic? non ho visto un grande Loftucic in questi giorni nelle ultime due o tre partite quindi è probabile, è possibile che Stefano Piolli che Stefano Piolli stia pensando a questo scusate un po' di mal di gola stia pensando a questo cambio in attacco domani è domenica 21 e avremo un quadro un po' più chiaro dei possibili ballottaggi per il derby gara assolutamente da non perdere il Mian ha due risultati su tre può vincerla, può anche pareggiarla l'unico risultato che porterebbe l'Inter a vincere lo scudetto in casa del Milan è il successo dei Nerazzurri e ribadisco è l'unico risultato che il Mian deve provare ad evitare ci sentiamo nei prossimi appuntamenti un abbraccio a tutti se vi va iscrivetevi al canale mettete like, attivate la campanella un abbraccio a tutti, ciao! grazie a tutti! 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 grazie a tutti!